ciao a tutti e benvenuti sul canale di uncinetto in un click in questo video tutorial vi mostrerò una maniera pratica per eseguire un punto uncinetto molto popolare che è il punto pelliccia perché si ha chiamato così è facile da intuire se si guarda per esempio questo campione come vedete sul dritto del lavoro si realizzano una riga sì e una no punto per punto questi cerchietti o gocce che poi creano questo effetto pelliccia specie se realizzate con un filato non ritorto come questo ecco vi faccio mettere a confronto l'effetto che si ottiene con questo filato con quelli che si ottiene invece con un filato di tipo ritorto allora questo è un punto adatto alla stagione bellissimo per creare sciarpe scaldacolli e molto usato anche per fare borse altri accessori tecnicamente si tratta di una variante della maglia bassa la particolarità sta nel realizzare le gocce ciascuna goccia prima di chiudere la maglia bene andiamo a vedere quindi come fare per prima cosa andiamo ad avviare il nostro lavoro facendo il cappietto e poi mettendo su qualche catenella io ne ho messe su un totale di 20 allora come vi dicevo questo è un punto che si lavora punto per punto quindi non c'è da definire un numero preciso di maglie iniziali potete metterne su quante ne volete allora per prima cosa andiamo poi a creare la nostra base realizzando un giro di maglie basse quindi io farò così allora intanto su questo primo punto che è la mia ultima catenella lavoro due catenelle per sostituire la maglia bassa iniziale entro poi in quella che adesso è diventata la quarta catenella base realizzo la seconda maglia bassa e poi andrò avanti così fino a completare il giro con 20 maglie basse in totale questo primo giro qua corrisponde al nostro dritto del lavoro aperto il punto pelliccia lo andremo ad eseguire sul rovescio quindi nel giro 2 in tutti quelli pari attenzione però che le gocce appariranno sul dritto del lavoro come vi faccio vedere in questo campione allora questo è il dritto del lavoro quindi questo qui ok vedete la direzione e questo è il rovescio bene allora facciamo attenzione adesso che andiamo a fare il punto vero e proprio in questo caso tiriamo su di una catenella giriamo il lavoro e attenzione che dobbiamo andare a lavorare il primo punto la catenella infatti è servita semplicemente per girare il lavoro poi qui andremo a lavorare la nostra prima goccia che vi ho detto appunto si fa punto per punto allora per prima cosa guardate io vado ad infilare l'uncinetto nel punto poi ecco questa è la particolarità della tecnica che utilizzo io invece di mettere il dito indice come normalmente si fa al di sotto del filo che bisogna lavorare io vedete lo passo sopra poi tengo stretto con il dito mignolo il filo guardate poi cosa succede vado a pescare proprio in questa maniera qui è molto semplice faccio fare questa rotazione all'uncinetto tra il dito indice e il medio vado a pescare il filo che poi vedete porto nella mia nel mio punto quindi questa sarà la guccia che sta tutta intorno al dito ok la vedete io ho eseguito nel frattempo la mia maglia bassa che vado a chiudere con il solito punto allora prima di passare al punto successivo ricordate di inserire l'uncinetto nel punto sfilate il dito mettetelo sempre sopra e ripetete esattamente quello che vi ho fatto vedere allora come vedrete questo qui poi man mano che voi andate avanti è un lavoro che vi verrà automatico e io trovo anche che sia questo tipo di tecnica che vi sto mostrando più semplice da realizzare rispetto a quella che è indicata di solito e che ho imparato anche io allora intanto vi faccio vedere come sta avvenendo il nostro dritto vedete che ci sono le varie gocce comunque vi dicevo il fatto di fare passare va bene il dito indice sotto il filo e quindi arrotolare il filo sopra in questa maniera qua è una cosa che io ho trovato più pratica che non fare il discorso contrario come viene invece nella maggior parte dei casi indicato quindi una volta che avete messo l'uncinetto del punto nel punto si tratterebbe di fare in questo modo passarlo andare a recuperare il filo e poi chiudere allora io personalmente poi può darsi anche che sia una cosa soggettiva allora perdo un po' di tempo in questo passaggio qua di chiusura della maglia bassa perché rimane un po' stretto dal momento che devo tirare il filo e quindi ho trovato più semplice come vi dicevo posso fare ecco anche perché poi vedete avete il filo qua rimettere di nuovo l'uncinetto è un po' fastidioso invece in questo modo il filo rimane cioè tutto rimane più pulito nell'esecuzione del lavoro allora voi provate mettete a confronto le due modalità e poi vedete anche voi la differenza e cosa preferite alla fine voglio dire il lavoro è tecnicamente identico si tratta semplicemente di scegliere di fare passare il filo intorno al dito indice in un'altra maniera allora ecco questa tecnica tra l'altro io la trovo molto utile se si vuole utilizzare la mano libera senza ausili per fare le gocce se invece si utilizzano come a volte è indicato pennarelli righelli o altri ausili su cui arrotolare il filo allora anche l'altra l'altra tecnica può essere può essere utile allora io nel frattempo sono arrivata in fondo alla riga questo è il risultato sul dritto allora adesso devo andare a fare il mio terzo giro io metto chiaramente un altro giro di maglie basse quindi tiro su il lavoro di due catenelle vi faccio vedere come iniziale iniziare allora giro il lavoro adesso questo punto io l'ho lavorato passo al secondo e vado a fare qui la mia seconda maglia bassa la terza e poi proseguo fino ad arrivare in fondo ecco vi faccio vedere che chiaramente arrivati in fondo dovete lavorare anche questo punto qui ok quello prima del nodino punto che assicura che chiude la prima goccia ok allora io adesso faccio con voi anche il quarto giro per ricapitolare quello che abbiamo detto prima quindi è il giro da lavorare sul rovescio a punto pelliccia tiro su di una catenella giro dopodiché chiaramente qua il punto lo devo ancora lavorare vedete ho preparato il dito cioè l'ho messo sopra il mio filato quindi si infila il punto metti sopra il filato il dito e poi lavori come vi indico adesso io sono sotto la telecamera quindi non ho proprio la libertà di muovere le mani come voglio per stare proprio qui bene sotto però ecco vi assicuro che poi quando che poi quando siete a lavoro diretto è veramente molto semplice e molto scorrevole farlo ok in questo modo allora arrivo in fondo alla riga arrivata in fondo giro il lavoro così vi faccio vedere come sta avvenendo e come vedete anche senza ausili esterni oltre le mani ecco con questo tipo di tecnica le gocce verranno anche di un'altezza omogenea quindi come potete vedere anche dagli altri campioni che avevo fatto ok quello pelliccia che vi avevo già mostrato ecco il lavoro viene molto regolare e vi ripeto secondo me anche lo velocizzate abbastanza per cui sarà anche più come dire gradevole e di soddisfazione lavorare questo punto e realizzare questo effetto oltre che a lavoro aperto questo punto può essere realizzato anche in tondo allora cambio campione prendo questo che avevo iniziato a preparare in tondo allora la particolarità del lavoro in tondo è che voi avete sull'esterno sempre il dritto mentre il punto pelliccia viene in questo caso sempre su quello che è il rovescio del lavoro e l'interno volendo è anche molto pratico da lavorare in tondo il punto perché come vedete ecco queste gocce questi cerchietti rimangono all'interno e quindi non interferiscono come dire durante la lavorazione allora vi faccio vedere anche come iniziare e chiudere i giri con la lavorazione in tondo allora io avevo ultimato con il giro di punto pelliccia quindi devo fare un giro di maglie basse tiro su di 2 catenelle poi lavoro il punto successivo e vado avanti fino a completare il giro con un totale di 30 maglie basse perché io avevo fatto appunto il mio campione mettendo su qui alla base un totale di 30 catenelle dopodiché ero rientrata nella prima con maglia bassissima e avevo lavorato come fatto qua un primo giro di maglie basse e anche in quel caso in chiusura di questo primo giro ero andata a recuperare la seconda delle due catenelle iniziali e avevo appunto chiuso con maglia bassissima allora adesso io devo andare a fare il mio giro di punto pelliccia quindi esattamente come vi facevo vedere prima tiro su di una catenella però attenzione che in questo caso io questo punto qua lo devo ancora lavorare quindi si inserirà l'uncinetto poi dito sopra ecco qui e ho fatto il mio primo punto poi vado avanti nel secondo quindi guardate bene mi devo mettere qui non qui perché sennò salto un punto quindi infilo il mio uncinetto qui sfido il dito prendo ecco scusate quindi sto lavorando il terzo punto lavoro il quarto e andrò avanti così fino a fare tutti quanti i 30 punti allora vi faccio vedere poi come chiudere il giro allora una volta che io ho lavorato il mio ultimo punto che è questo allora dove devo andare a inserire il mio uncinetto per chiudere il giro allora non prendete la prima catenella iniziale che è questa ma guardate ecco dove trovate questo primo punto qui e mettetevi esattamente qua e quindi chiudete con maglia bassissima allora in questo modo allora dovrebbe rimanere abbastanza dritta senza grosse deviazioni la riga di punti iniziali allora che qua si vede poco oltretutto bene quindi vi faccio vedere una volta che voi ultimate alternando il giro di maglie basse al giro di punti pelliccia esattamente come ho fatto vedere allora che cosa ottenete quando poi girate il lavoro eccolo qua per andare appunto a esibire questo punto pelliccia qui che come vedete ecco è bellissimo anche da realizzare con un filato variegato come questo allora concludo il tutorial facendovi vedere anche un altro campione di lavoro eseguito in tondo in maniera tale ecco che possiate vedere che quando si lavora in tondo non è necessario fare venire il punto pelliccia obbligatoriamente nell'interno del lavoro ma come vedete qui si può fare venire anche sull'esterno oltretutto ecco io vi voglio fare notare che ho utilizzato una base molto semplice di maglie alte quindi una lavorazione rasata sia sopra che sotto questo inserto però l'inserto punto pelliccia voi potete immaginarlo anche su qualunque altra base e qualunque lavorazione ecco l'importante è che poi possiate recuperare facilmente punto per punto per poter lavorare questo punto pelliccia qui allora adesso vi faccio vedere la maniera molto semplice per inserire appunto il lavoro facendolo venire questo punto questa lavorazione anche dall'esterno allora guardate è veramente molto banale perché basta allora tirare su sempre di una catenella ma invece che continuare nella nostra direzione del lavoro dobbiamo girare appunto ok e lavorare dall'interno in maniera tale che il punto venga all'esterno quindi io andrò tra l'altro a prendere come primo punto vedete questo qui allora solito metodo di passare il dito indice sopra quindi primo punto l'ho fatto secondo punto terzo quarto andrò avanti così fino a fine giro ecco come ho fatto e anche in questo caso quando arrivo in fondo ecco mi raccomando andare a prendere questi due punti qui e chiudere con maglia bassissima su questo punto che è praticamente la maglia bassa del primo cerchietto della prima goccia di punto pelliccia che abbiamo eseguito su questo giro ecco quindi non andate a prendere invece la prima catenella con cui si tira sul lavoro ecco quindi come vedete poi il lavoro viene così allora se voi volete fare più righe allora andrete avanti a lavorare sempre in questa direzione alternando per esempio il giro di maglia bassa che c'è tra una linea di punto pelliccia e l'altro e poi un punto pelliccia se poi volete tornare diciamo a questo pezzo qui senza la pelliccia e ovviamente riportare il vostro dritto del lavoro invece che sull'interno sull'esterno allora basterà fare la cosa contraria a quella fatta prima quindi io tiro su di tre catenelle perché voglio lavorare maglie alte ecco giro il lavoro cambio direzione e prendo a lavorare le maglie alte ok e quindi potrò continuare ecco questa è un metodo interessante per fare degli inserti punto pelliccia sul lavoro in tondo e può essere utilizzato allora provate a pensare se siete partiti con una borsa da qua avere questa frangia sulla sommità della borsa oppure volete creare altri accessori un porta cellulare oppure facendolo più largo un astuccio insomma quello che volete ecco qui si tratta semplicemente di avere un po' di fantasia il tutorial termina qui spero vi sia stato utile fatemelo sapere nei commenti se volete esercitarvi con il punto potete seguire i prossimi tutorial nei quali vi mostrerò come realizzare con questo punto completini molto graziosi per barbie ne approfitto quindi per mostrarvi i nuovi modellini barbie della collezione punto pelliccia innanzitutto vi proporrò di realizzare questa gonna insieme alla giacca con cui fare un grazioso completo coordinato sotto potete mettere la canotta sotto giacca oppure anche abbinare il pullover a coste vi proporrò anche questa versione con balza a pelliccia e infine in alternativa alla giacca il gilet oppure questa mantella oppure anche la stola da abbinare col nostro tubino per rimanere aggiornati sugli ultimi video caricati sul canale oltre che dai post pubblicati sulle nostre pagine facebook e instagram potete andare sulla playlist degli ultimi 5 video caricati al link che vedete in sovraimpressione infine vi lascio il link alla playlist dedicata ai tutorial dei punti uncinetto dove oltre al punto pelliccia troverete altri punti interessanti da realizzare con i suggerimenti per una lavorazione semplice e pratica io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione prestata a questo tutorial e vi do appuntamento con i prossimi video tutorial per lavorare insieme arrivederci grazie